salve in questo nuovo video è arrivato il momento di parlare della gestione degli spazi colore introducendo gli ICC cioè profili colori dei dispositivi e i concetti di CMM color matching module e gli intenti di rendering parleremo insomma del sistema di gestione degli spazi colori di lavoro CMS cioè color management system che confusione con tutte queste sigle vero vediamo di fare chiarezza qual è il problema di fondo della riproduzione dei colori fra diversi dispositivi facciamo un esempio la videocamera riprende un qualcosa colorato di un certo rosso mettiamo la terna 207 3450 quando visualizziamo lo stesso oggetto nel nostro monitor pc per esempio esso riprodurrà la stessa terna 207 3450 che ha avuto come input ma noi vedremo visualizzato un altro rosso non quello della videocamera se avete capito bene ad una stessa terna rgb corrispondono diversi tipi di rosso uno per ogni dispositivo insomma possiamo dire che gli spazi colore che si basano su rgb sono dipendenti dal dispositivo per capire ritorniamo a parlare degli spazi colori dei dispositivi detti anche spazi colore di lavoro l'insieme delle terne di colore che un dispositivo può registrare e o riprodurre si chiama gamut del dispositivo il classico diagramma delle cromaticità presenta una campana di colori detta anche vela che rappresenta i colori distinguibili dall'occhio umano in pratica il gamut umano tale diagramma è dovuto alla cie cioè consorzio internazionale per l'illuminazione ed è preso come standard di riferimento la campana come detto rappresenta la capacità della visione umana ma ci sono infiniti valori al di fuori di essa come per esempio gli infrarossi e l'ultravioletto questo diagramma è stato stabilito per convenzione rappresenta lo spazio di colore assoluto chiamato cie xyz tale spazio colore è indipendente dai dispositivi ed è per questo che è detto assoluto e preso mi riferimento sono stati comunque creati altri spazi colore assoluto sia dalla stessa cie che da altri enti ma noi ci riferiremo solo a questo oltretutto i concetti alla base sono gli stessi è comodo riportare gli spazi colore di lavoro usati nel mondo video sopra questa campana come si vede la forma di tutti gli spazi colore di lavoro è triangolare con ai vertici colori puri di verde rosso e blu il che è logico visto che sono basati sulla terna rgb come già detto l'occhio al gamut più ampio anche se non infinito ma il mondo reale i vari dispositivi hanno gamut più piccoli come si vede bene dalla figura a parte access io lo pronuncio così che è stato creato proprio per racchiudere tutto il gamut umano in realtà tali dispositivi sono progettati e realizzati in modo da supportare un certo gamut deciso a priori monitor o videocamere professionali possono arrivare a spazi colore più ampi il gamut più piccolo è srgb e anche il rec 709 utilizzato nei dispositivi consumer e non solo nato per l'alta definizione hd non è da disprezzare perché quasi sempre capita di lavorare per il web o per tv hd che usano proprio questo gamut più esteso è lo spazio colore dcp 3 anche questo lo pronuncio all'italiana che è proprio dei proiettori digitali per il cinema ancora più grande è il recente rec 2020 nato per i blu ray e il 4k nel grafico è riportato anche lo spazio colore access nato proprio per i video digitali e destinato molto probabilmente a diventare il nuovo standard questo perché comprende una codifica lineare dei colori ed è molto esteso include tutti i colori visti dall'occhio umano e più a volte un po impropriamente viene riportata un'area che rappresenta lo spazio di colore di un film su pellicola è molto grande e non ha nemmeno forma triangolare anche se qui viene disegnata triangolare non so perché viene chiamato semplicemente spazio colore film o cinema abbiamo accomunato srgb il rec 709 perché hanno esattamente lo stesso insieme di dati colore di tonalità insomma ma differiscono leggermente nell'applicazione della gamma correction di default che è di 2,2 per srgb e 2,4 per rec 709 vi prometto e ci ritorneremo sopra nel prossimo video abbiamo detto del problema di visualizzazione su dispositivi diversi facciamo un esempio abbiamo un video codificato nello spazio colore il rec 709 e lo visualizziamo su un monitor che supporta dc p3 in questo caso non ci saranno problemi tutti i colori di rec 709 sono supportati anche dal p3 che anzi potrebbe anche visualizzarne più di quanti il file video ne contiene se invece abbiamo il caso contrario c'è un file in p3 visualizzato su schermo rec 709 avremo che alcuni colori del video saranno out of gamut per il monitor e non potranno essere riprodotti invece di presentare delle lacune di colore i valori non riproducibili saranno mappati su valori rec 709 utilizzando gli intenti di rendering ma questo lo vedremo meglio dopo il problema della non corrispondenza dei colori si può capire meglio prendendo in considerazione il verde puro cioè il vertice superiore del triangolo guardando la figura si vede nello spazio colore rec 2020 il verde puro si trova in un punto più alto del rispettivo vertice nello spazio colore rec 709 entrambi i dispositivi lo considerano verde puro ma in realtà l'occhio vede verdi diversi più precisamente possiamo dire che le coordinate x y z nello spazio colore assoluto sono diverse nei due casi anche se ognuno dei dispositivi lo considera come verde puro cioè l'estremo del proprio vertice del proprio triangolo la gestione colore di dispositivi diversi consiste nel trasformare un qualsiasi colore in un colore riproducibile dallo specifico dispositivo in un workflow corretto lo spazio colore su cui conviene lavorare sarà il più piccolo di tutta la catena in questo modo possiamo garantire l'uniformità di visualizzazione lungo tutto il workflow ma non è un modo soddisfacente specie in ambito professionale perché otterremo sempre la qualità minima a volte addirittura non accettabile facciamo un esempio si riprende un filmato su pellicola spazio colore film lo scansioniamo e lo salviamo in digitale con un gamut p3 che ci consente di mantenere un'ottima gamma di colori lavoriamo su monitor rec 709 in realtà si dovrebbe parlare di accoppiata monitor più scheda grafica ma possiamo considerarli un unico dispositivo poi infine lo renderizziamo con spazio colore rec 2020 infine lo riportiamo su pellicola gamut film e lo proiettiamo al cinema quali sono i colori che vedranno gli spettatori se avete risposto i colori rec 709 avete vinto un premio in realtà le cose non stanno proprio così perché le informazioni originali non vengano perdute nei vari passaggi però questo esempio ci serve per chiarire il concetto tanto ci ritorneremo sul proprio avanti prima di approfondire cms ovvero come funziona la gestione del colore fra due dispositivi diversi volevo chiarire che un file video quando viene salvato viene per forza associata ad uno spazio colore spesso le immagini lo riportano fra i metadati ma non è detto l'importante è capire che c'è sempre solo i file raw non hanno associato un gamut perché lo assegneremo noi proprio al momento di salvarli in un file altro punto da capire è che quando parliamo di calibrazione di un monitor e del suo spazio colore in realtà dobbiamo considerare anche la scheda grafica che crea il segnale video che il monitor visualizzerà essendo un'unità inscindibile possiamo parlare di un solo dispositivo ma attenzione se cambiamo scheda video oppure cambiamo monitor dovremo rifare la calibrazione e lo spazio colore di lavoro risulterà diverso i dispositivi su cui attueremo la trasformazione dei colori sono chiamati sorgente e destinazione in questo modo non è importante sapere se parliamo di sensori di videocamere oppure di stampanti fotografiche bastano concetti generali e finalmente passiamo a parlare di cms il primo passo è calibrare i dispositivi per ottenere un profilo colore chiamato icc international color consortium questo è un semplice file che riporta il gamut preciso di un dispositivo avremo quindi due profili iccs per la sorgente e iccd per la destinazione notare a questo scopo possiamo anche usare delle specifiche loot create per ogni dispositivo e fornite dal produttore che in effetti altro non sono le tabelle di riconversione è importante capire bene di cosa parliamo i profili icc non sono altro che delle tabelle di terne rgb dei rispettivi dispositivi a questo punto dobbiamo associare ad una terna rgb del dispositivo il corrispondente valore colorimetrico assoluto cioè xyz in pratica la terna rgb di input si associa una terna assoluta xyz questa fase si chiama pcs profile connection space avremo quindi una tabella di conversione fra spazio colore sorgente e spazio colore assoluto e un'altra fra spazio colore destinazione e spazio colore assoluto a questo punto avviene la conversione dei valori della sorgente ai valori della destinazione tramite appositi algoritmi questa fase viene chiamata cmm color matching module ed è gestita dal sistema operativo per linux si chiama color management system in più possiamo scegliere fra quattro diversi algoritmi che vengano chiamati intenzione di rendering render intent che specificano come colori fuori gamut verranno mappati sul gamut della destinazione in pratica indichiamo quale algoritmo usare i quattro intenti sono colorimetrico assoluto colorimetrico relativo percettivo e saturazione e indovinate un po non ne parleremo vi consiglio però di visitare il blog di mauro boscarol per la profondità degli argomenti trattati e la chiarezza espressiva riprendiamo l'esempio fatto all'inizio del paragrafo riguardo un colore rosso nella sorgente caratterizzato dalla terna rgb 207 34 50 come già detto questa stessa terna produrrà nella destinazione un tipo di rosso leggermente diverso perché basato sul proprio gamut la terna è sempre la stessa ma il risultato è un rosso diverso se invece usiamo un profilo colore per ogni dispositivo la terna della sorgente verrà trasformata dal cms in una nuova terna che visualizzata sulla destinazione avrà un diverso valore per esempio 200 40 20 lo dico a caso ma chi ha il nostro occhio sarà lo stesso rosso della sorgente ovvio che avremo una degradazione visto che la terna cambia ma non ci sarà perdita di dati come invece avevo precedentemente affermato perché rimarrà intatta la terna assoluta x y z da cui si può sempre ricostruire le terne per ogni specifico dispositivo in definitiva nel sorgente la terna rgb s corrisponde esattamente ad una terna assoluta x y z nella destinazione la stessa terna assoluta x y z corrisponde ad una nuova e diversa terna rgb d notare che la terna x y z non ha indici poi è assoluta e vale per tutti i possibili dispositivi tutti questi passaggi servono a garantire l'uniformità del colore passando dalla sorgente alla destinazione in realtà in un workflow professionale oggigiorno si utilizzano loot create da noi stessi o scaricate dal sito del produttore per quasi ogni aspetto del workflow diventano quindi più importanti le problematiche di risoluzione di profondità di colore o di hdr che abbiamo analizzato precedentemente però resta fondamentale capire concetti alla base della gestione del colore e quindi spero di essere stato chiaro grazie a tutti grazie a tutti